Si è tenuta ieri pomeriggio una riunione della segreteria confederale della CST Willi di Agrigento, nel corso del quale il segretario generale Gero Acquisto ha fatto un'attenta analisi delle diverse problematiche rappresentate durante la lunga stagione congressuale, che è stata la sintesi da cui partire per tracciare il percorso politico sindacale da seguire. Molteplici e vaste sono state dunque le tematiche affrontate, con l'occasione sono state assegnate e di seguito elencate le deleghe confederali ai componenti della segreteria. Iniziamo da Calogio Acquisto, Segreteria Generale, Agricoltura, Forestali, Consorsi di Bonifica, Trasporti e Sanità. L'Inda Bellia va alla pubblica amministrazione, pari opportunità, integrazione e inclusione, politiche del lavoro, formazione professionale, fondi europei e sicurezza. Salvatore Cottone si occuperà dei servizi del patronato del CAF, delle politiche sociali, della disabilità, del dipartimento enti locali e regionali, mentre Giovanni Manganella dell'organizzazione, del settore industria, infrastrutture, politiche energetiche e delle acque, partecipate, artigianato e terziario. E sempre il Segretario Generale della Will, Gero Acquisto, ha puntato il dito sul settore del turismo. Dopo due anni riparte alla grande il turismo italiano, nel solo giugno 9 milioni sono previsti gli arrivi, una vera e propria invasione da parte dei turisti francesi, americani e tedeschi, britannici e spagnoli, in Sicilia e bummi di presenze e agrigento. Cosa succede ad agrigento? Agrigento, nella quarta città siciliana, il turismo rispetto agli ultimi due anni è in forte ascesa. Si registrano 66 mila presenze nella Valle dei Templi, nei soli primi sei mesi, un incremento del 10% rispetto al 2015, annata già a record per il parco archeologico. Ma oltre alla Valle si pone il problema segretario acquisto dei templi, cos'altro da visitare un turista? Sicuramente la risposta non è diretta, è spontanea, perché vi sono ben pochi turri, escursioni organizzate e ben pubblicizzate. Il problema agrigentino, continua il segretario generale della Valle, leggero acquisto della provincia di agrigento, non è il turismo, ma di per sé i turisti che in due o tre giorni vanno via, il segretario della Valle di agrigento acquisto, altro a proposito sottolinea come la situazione piano piano sta migliorando in provincia, ma c'è ancora molto da fare. Bisognerebbe, come già accaduto in altri contesti ben più indisastrati, dare nuova luce ai posti nascosti della nostra provincia, riqualificare il centro storico che non è per niente pubblicizzato e valorizzato. Il nostro territorio è pieno di luoghi incantevoli, ricchi di storie e tradizioni, spiagge e riserve, alcuni sono dei piccoli posti di tesoro abbandonati. Dovremmo concludere il genero acquisto, dare impulso alle micremobilità elettrica, le città sono invase dallo sharing di monopattini, bici, scooter, auto elettriche. Il 2022 ci impone quindi di stare al passo coi tempi, così da permettere al turista di organizzare più tappe nella nostra provincia.